...avevano tutte lo stesso volto. Benvenuto al Papasol! Non devi nasconderti. Io so chi sei. Sonmi 451. Ieri... Cominciano molto prima che nasciamo e continuano dopo la nostra fine. Ci sono campi, campi sterminati, dove i polli non nascono. Vengono coltivati. A lungo non ci ho voluto credere. Poi ho visto quei campi con i miei occhi. No. Non è possibile. Io non ci credo. Non ho detto che sarebbe stato facile. Ho detto che ti offrivo la verità. Smettila. Fammi uscire. Fammi uscire! Me ne voglio andare! No. No. Grazie a tutti.